buongiorno sono giampaolo dalla pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento questa land rover freelander 2s dell'anno 2010 vettura 2.2 di motore con 152 cavalli 112 kilowatt dotata di cambio automatico e trazione integrale vettura veramente in ordine 156 mila chilometri percorsi naturalmente originali completamente tagliandati dotata anche di gancio traino omologato quindi si può trainare senza problemi si presenta con una splendida vernice bianca con leggero tono panna interna in stoffa nera realmente in ordine volante multifunzione con cruise control diamo il nostro ecco i 156 mila chilometri cruise control radio cd mp3 originale clima automatico bizona terra in response velocità di discesa controllata abbiamo specchi ripiegabili elettricamente quattro alzacristalli elettrici faccio vedere anche sedili posteriori vettura veramente in ordine nonostante l'età è disponibile in pronta consegna vi aspetto gussago presso il nostro autosalone pasolini auto per vederla provarla ed eventualmente acquistarla grazie